...delle magliette del giocatore del Milan, addirittura Montari di sua iniziativa, senza che nessuno glielo chieda, si sfila la maglietta e sta per darla a un bambino delle giovani di Gentiego. La guarda, guarda il numero, no no, la tua non la voglio, e Montari un po' spizzito gliela lascia, poi chiaramente se la...